Chiedono di rimettere in movimento il Paese e risolvere gli annosi problemi legati alle infrastrutture e trasporti sindacati CGL e Cisle Will che hanno programmato un imponente sciopero generale per il 24 e il 26 luglio. Una mobilitazione di questa portata non si ricordava dalla fine degli anni 80, hanno detto a Pescara, presentando le iniziative che saranno messe in atto in occasione delle due giornate di stop dal lavoro, i segretari generali regionali della Filt CGL, Filt Cisle e Will Trasporti, Franco Rolandi, Amelio Angelucci e Giuseppe Murinni. Tra le numerose richieste avanzate al governo c'è anche la stabilizzazione del Fondo Nazionale Trasporti e di scongiurare i tagli al fondo di 58 milioni di euro. Il 24 luglio ci sarà lo stop per treni, traghetti, taxi e trasporti pubblici locali, mentre gli aerei si fermeranno il 26 luglio. Rolandi, per quanto riguarda i problemi infrastrutturali, quali sono quelli principali da risolvere? Abbiamo dei problemi che sono datati nel tempo. Io vorrei partire intanto dall'esclusione della nostra regione insieme ad altre regioni limitrofe, quali il Molise e quali le Marche, da tutti i corridoi europei. Noi siamo, voglio ricordarlo, una delle poche regioni escluse dai sistemi di alta velocità e questo significa penalizzare sicuramente il territorio, penalizzare anche gli utenti. Ma i problemi infrastrutturali attengono anche il sistema della viabilità, le condizioni delle nostre autostrade sono assai note e ce ne rendiamo conto anche percorrendo appunto sistematicamente la tratta autostradale che ci dovrebbe portare e ci dovrebbe collegare con Roma. Purini, e per quanto riguarda il trasporto aereo? Beh, anche il trasporto aereo ci vede interessati con questo sciopero a difendere il nostro unico scalo regionale e la crisi di Alitalia rischia di vedere cancellate molte relazioni degli aeroporti minori, tra questi anche l'aeroporto d'Abruzzo. Ne stiamo discutendo in questi giorni, purtroppo notiamo un'assenza di dialogo anche con il governo regionale. Ci auguriamo di aprire al più presto un confronto, ad esempio anche sui porti d'Abruzzo hanno queste necessità di scelte. Per quanto concerne invece il trasporto ferroviario, quali sono i problemi inderogabili da risolvere? Due le problematiche principali. La prima di carattere generale. C'è un contratto scaduto che riguarda sia i ferrovieri che gli addetti al trasporto pubblico locale e questa partita non può essere più rimandata. Il secondo aspetto è legato al fatto di non riuscire ad intercettare i finanziamenti e le risorse per migliorare l'infrastruttura. Questo comporta criticità sia per la lunga percorrenza che per il trasporto regionale. Quindi chiediamo certezza delle risorse e rapidità di intervento.